Ma che succede? Oh, tu sei così in forma dopo 4.000 anni! E io che non arrivo a 40, guarda come sono ridotta! Il segreto è una buona manutenzione! Oh, per me è troppo tardi! No! Per te c'è Corima! Corima è un'azienda leader nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni pubbliche e private! Ma cosa può fare Corima per me? Chiudi gli occhi! Oh! Grazie Corima!